salve buongiorno a tutti oggi al 9 di dicembre credo 9 oggi è sabato ecco io avevo i miei braccialettini questa è ambra resina di ambra guardate che belli allora questa mattina le informazioni sono le seguenti il mio gruppo della fresca sapete che io ho un gruppo della fresca e poi ho un altro gruppo in cui pubblico le sestine per chi vuole entrare diciamo che l'accesso è aperto a chiunque sono sestine da giocare su tre ruote ne ho messe parecchie e la volta scorsa una di queste sestina già fatto il terno su torino con sei numeri io mi rendo conto che molti di voi piace l'ambo il terno ma come vi ho detto tante volte dietro la lottomatica non c'è il lottologo che fa i conti dietro alla matematica c'è una multinazionale e i cervelloni che fanno i conti per far sì che noi non vinciamo più o meno la storia è questa quando sarete consapevoli di questo forse comincerete ad apprezzare anche i numeri vincenti su tutte e soprattutto le sestine allora in questo periodo ho fatto un altro lavoro nuovo ho calcolato dei numeri singoli che escono sulle tre ruote del sole per chi vuole questi numeri singoli puoi entrare nel mio gruppo potete chiedermeli ovviamente entrare nel mio gruppo non è gratis potete chiedere delle informazioni io vi darò il numero singolo da portare avanti chi lo vuole stamattina vediamo se non sia già uscito perché i numeri escono così velocemente che escono velocemente punto sapete che sono in collaborazione con 10 lotto per chi vuole il 10 lotto per chi vuole le tavole del 10 lotto per chi vuole giocare il 10 lotto può chiedermi i numeri i numeri da giocare in quella determinata ora perché abbiamo anche quello non ci manca niente nei nostri gruppi bene questo è tutto io vi auguro una splendida giornata appunto oggi è sabato fa freddo tanto ciao a tutti e grazie